ed eccoci di nuovo in diretta con il nostro le fonti instant focus come avevamo annunciato prima della pausa pubblicitaria ci prendiamo un breve break dall'analisi dei mercati per parlare invece di tecnologie 4.0 intelligenza artificiale ologrammi realtà virtuale e aumentata come leggete anche dalla nostra strap il titolo della nostra trasmissione sono termini che fanno parte ormai della nostra quotidianità non solo della nostra ma soprattutto di quella delle aziende in realtà le tecnologie 4.0 vengono utilizzate soprattutto per l'automazione dei processi ma sono destinati ad avere un impatto sempre più significativo anche per quanto riguarda la comunicazione digitale e parleremo di tutto questo con l'ospite che ci ha raggiunto in collegamento vero antonio francese co-founder di media engineering benvenuto e grazie per aver accettato il nostro invito buongiorno i presenti grazie grazie dottor francesi direi iniziamo ecco da i dati come sempre quei numeri ci aiutano un po a fare il quadro della situazione io cito ecco quelli di una ricerca recente per cui ecco il 63 per cento delle imprese italiane sta utilizzando almeno una delle tecnologie 4.0 attualmente disponibili e il restante 37 per cento è ancora in fase di valutazione un mercato quello delle tecnologie 4.0 che sta letteralmente esplodendo oggi vale più di 5 miliardi di euro e propone ecco naturalmente nuove sfide partiamo proprio da qui innanzitutto ecco un quadro generale poi andremo nello specifico a valutarle queste tecnologie sì queste tecnologie ormai stanno invadendo il mercato adesso sicuramente avrete sentito parlare di tutti di intelligenza artificiale e nello specifico il duello in atto fra chat dbt e quello che google sta mettendo adesso in atto dal punto di vista della della dell'intelligenza artificiale e più in generale sono tecnologie che stanno ormai arrivando alla porta di delle aziende ma anche alle porte di ovviamente delle delle anche di di casa quindi delle persone che possono utilizzare in maniera del tutto è alla porta di mano quindi tutti possono prendere questo tipo di tecnologie e utilizzarla manipolarla e cominciare a familiarizzare e ad esempio la parte che noi soprattutto stiamo utilizzando in questo periodo è la parte di olografia piuttosto che la parte di realtà virtuale la parte di della parte di olografia viene ovviamente utilizzata in questo caso per la telepresenza noi oggi siamo live streaming immaginate di poter vedere il un ologramma quindi la la mia figura materializzarsi in un altro luogo un po come nel nostro studio ad esempio esatto nel vostro studio sì e viceversa avere magari collegati da remoto degli ospiti che sono in tutt'altra in tutt'altro luogo e poter rivedere materializzati ma questa è giusto una delle n applicazioni che può essere fatta e poi parliamo di realtà virtuale oggi si pensa alla realtà abituale come un gioco no quindi un qualcosa che fino ad ora è stata utilizzata per le piattaforme di gioco in cui indossato un visore con quel visore potevo magari giocare ai vari gioco insomma è vero si si esatto verissimo è una parola associata soprattutto al mondo del gaming ed ecco una parola rispetto a cui si crea anche un po di confusione tra realtà virtuale e realtà aumentata ecco ci aiuta a fare invece una distinzione a capire esattamente quali sono le differenze sì le differenze sono anche da puntino di tutto a puntista tecnologico nel senso che attualmente per poter fruire di un prodotto di realtà aumentata non necessariamente hai bisogno di un visore la dico in maniera in maniera semplice oggi per fare la differenza e la realtà aumentata vada ad aumentare proprio come dice la parola ciò che vedo e come posso fare come possa aumentare ciò che vedo posso aumentare utilizzando nuovo uno smartphone oppure utilizzando questo tipo di esperienza viene oggi utilizzata tantissimo ad esempio nella nella parte di se voglio andare all'interno di un museo e vedere un contenuto ulteriore quindi vado ad arricchire ciò che vedo lo vado ad arricchire con che cosa con dei video con del testo con un'esperienza un'interazione che posso fare con l'oggetto che sto vedendo ma in questo caso sto aumentando no lo spettro di visione rispetto a quello che la realtà mi mi pone davanti un altro esempio molto semplice ad esempio nell'arredamento degli arredamenti di casa o piuttosto negli arredamenti urbani posso andare a selezionare un oggetto e posizionarlo in una specifica posizione quindi vedo un ambiente e posiziona degli oggetti all'interno di questo ambiente quindi utilizzo banalmente uno smartphone oppure un tablet quello che quello che ho disponibile non ho bisogno di un visore quindi continuo a vedere il mondo che mi circonda lo arricchisco o con degli oggetti anche dal punto di vista del turismo ci sono tante applicazioni in questo ambito quindi questa è realtà aumentata la realtà virtuale invece una realtà immersiva che cosa voglio dire che mi immergo in una realtà che normalmente non vedrei quindi non in cui indosso un visore e quel visore mi proietta in un in un mondo questo mondo non reale può essere di vario tipo può esserci ad esempio una ricostruzione tridimensionale di un ambiente quindi realistica oppure come oggi si sente tanto parlare di metaverso quindi un qualcosa che non è reale ma è ricostruito in grafica 3d ed è immersivo quindi io mi posso girare intorno posso guardare intorno a me tutto quello che mi circonda e viverlo no quindi essere presente non solo vedere ma anche ascoltare non solo ascoltare ma anche interagire quindi posso toccare le cose posso anche muovermi all'interno quindi interazione visione e da colpire insomma diversi diversi sensi ecco perché queste poi queste tecnologie vengono molto in questo periodo abbinate anche alle neuroscienze chiarissimo ecco lei ovviamente ha parlato di metaverso e se ne fatto anche un gran parlare lo scorso anno soprattutto per i conti non proprio positive brillanti di meta la società di mark zuckerberg che tanto ha investito nello sviluppo del metaverso forse anche per i limiti tecnologici che ancora ci sono il metaverso non è letteralmente esploso come ci si aspettava probabilmente è solo una questione di tempo ma ecco io voglio sapere il suo pensiero il suo giudizio secondo lei ecco vivremo e lavoreremo fra dieci anni tutti nel metaverso ma vediamo vediamo anche la tecnologia quanto sarà quanto sarà al passo con quello che sta accadendo per rispondere alla sua domanda rispetto parto da insomma da meta no quindi quello che è avvenuto lato proprio industria sul su questa ricerca di utilizzare il metaverso in determinate ovviamente in determinate in determinate situazioni allora la parte di metaverso oggi viene viene si utilizzata all'interno delle aziende o comunque come esperienza che viene viene effettuata ci sono diverse tecnologie che lo che lo consentono ed è un qualcosa che puoi vivere poi assolutamente essere immerso in questa realtà ma anche per poter un esempio tipico che sta che in questo momento si sta vivendo molto di più è quello di poter partecipare degli eventi in maniera virtuale quindi c'è una ricostruzione di fatto di un'ambientazione che può essere un teatro può essere un concerto e partecipi a quell'evento pur non essendo fisicamente lì quindi certo avatar che ti sostituisce e ti porta all'interno o all'interno di questi eventi dove per dal punto di vista tecnologico sicuramente ci sono ancora tante cose che possono essere migliorate ci sono tanti aspetti tecnologici sicuramente primo la rete perché ovviamente per poter partecipare a questi eventi hai bisogno di di una discreta banda ma altresì è un qualcosa che viene vista dalle aziende come dalle aziende comunque delle persone sicuramente un mondo nuovo da esplorare quindi per arrivare a come sarà il nostro futuro sicuramente se ne farà sempre più uso di che quando di questa tecnologia noi stessi la utilizziamo in in alcune experience per la parte soprattutto di training per rendere immersivo quello che tu stai vivendo che cosa voglio dire immaginiamo nel momento in cui devo fare un training specialistico e tecnico un discorso è che quel training io lo possa fare guardando un video un discorso è che in quel training lo possa vivere quindi ha un approccio completamente diverso questo tipo di approccio sta crescendo sempre più a crescendo sempre più perché emoziona quindi faccio una un qualcosa che lega ciò che vedo ciò che sento con un'emozione e questo ovviamente in un ambito di formazione piuttosto che in ambito ludico di un concerto è sicuramente molto molto più impattante chiarissimo ecco lei ha citato diversi ambiti e diversi settori anche soprattutto con l'uso della realtà aumentata dalla comunicazione al turismo e quindi ecco le chiedo se ci sono poi ecco delle aree specifiche in cui queste tecnologie 4.0 avranno più successo se avranno la capacità di invadere tutto il tessuto produttivo e soprattutto ecco le aziende attraverso le tecnologie 4.0 quali obiettivi concreti si prefiggono l'obiettivo sicuramente è quello di un maggiore ingaggio del proprio cliente quindi quello che si sta che stanno cercando di fare ma tante aziende ormai utilizzano questa tecnologia all'interno è quella anche di integrarla nel processo produttivo ad esempio non l'uso della prima citavamo l'olografia no quindi l'uso degli ologrammi al dire adesso della telepresenza che comunque un qualcosa che arricchisce no una una videoconferenza piuttosto che vederla da un computer io posso avere fisicamente in presenza questa persona ma anche in termini di ad esempio di un di un evento io non ho la possibilità di avere quell'ospite presente ma grazie all'olografia integro all'interno di quell'evento una persona fisicamente lì spostiamoci dall'azienda andiamo nel modo del divertimento ad esempio i concetti già ci sono state delle esperienze da questo punto di vista in cui Justin Bieber mi ricordo un esempio un esempio Justin Bieber ha di fatto virtualizzato il la sua figura ed è apparsa sul sul palco in in ologramma noi abbiamo fatto un esperimento simile dove abbiamo creato un po' di emozione dal punto di vista di proprio su per un per un evento in cui un musicista è apparso in all'inizio in in ologramma dopodiché c'era soltanto il chitarrista che accompagnava la sua performance dopodiché lui è apparso in reale in mezzo al pubblico e questa cosa ovviamente ha creato un'emozione incredibile perché non siamo abituati a vedere ancora ovviamente questo tipo di 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 realtà virtuale e fisica per poi ovviamente spostarci sul discorso che facevo poc'anzi quindi tanta tanta integrazione come dicevo prima con quello che può essere una un evento un un evento aziendale piuttosto che un concerto ma anche perché no quello che citavo poc'anzi l'utilizzo del della realtà virtuale ad esempio nel nel training o come viene già in in tanti settori sulla parte di manutenzione e la parte di manutenzione sono grandi aziende che utilizzano realtà virtuale e realtà aumentata perché gli operai o comunque chi è l'addetto ai lavori nel momento in cui inquadra uno specifico facciamo l'esempio di esempio di uno di un'auto io potrei inquadrare un elcofano di un'auto e vedere quell'auto esplodere da un punto di vista immagine e guardare al suo interno quindi andare a guardare ad esempio il motore le componenti del motore e quindi in tempo reale addestrare e dare tutte quelle informazioni che sono necessarie a quella quella al meccanico faccio un esempio di un meccanico che deve operare in quel momento e quindi poter fare ovviamente quell'azione per non parlare poi sulla realtà virtuale di fare un training specifico dove io ad esempio devo fare delle installazioni ad alta quota che può essere per un'antenna può essere per una paleolica e non solo vivo l'emozione di essere già su quella palla quindi reale intorno a me in termini di salita e in termini anche di visualizzazione a 360 gradi ma anche in termini di emozione perché ovviamente io sto salendo e vedo in altezza quindi se soffro di vertigini probabilmente quello non è proprio esattamente il lavoro che posso che posso fare e che posso ovviamente svolgere chiarissimo per arrivare anche di più legato alle disabilità in qualcosa che sempre dopo avvicinare le persone alla parte di disabilità in che senso che io posso vivere la disabilità di una persona e capire quindi impersonificare di fatto un disabile e capire da quel punto di vista quali sono gli ostacoli che quella persona si trova a vivere nel momento in cui uno spazio non è esattamente quello che come doveva essere costruito esperienze del genere sono molto molto formativa e sono riducono anche l'obiettivo di ridurre la distanza che c'è fra esatto fra noi norma dotati e chi purtroppo ha dei deficit motori piuttosto che uditivi a contatto grazie sì certa una immedesimazione superiore chiaramente a tutti gli effetti assolutamente ecco abbiamo capito insomma dal suo discorso che le tecnologie 4.0 sono non solo il futuro ma già anche il presente ecco della dello sviluppo che ci attende e sono la parola chiave per comprendere questo determinato periodo storico insieme a un'altra che è sostenibilità e io le chiedo ecco tecnologie 4.0 e sostenibilità sono due termini che possono procedere a braccetto possono procedere a braccetto nel momento in cui rendiamo più sostenibili sicuramente gli spostamenti e già quello ad esempio che stiamo facendo nelle dirette nelle dirette negli eventi nelle videoconferenze riduciamo i tempi di spostamento e quindi grazie alla tecnologia abbiamo capito che si può risparmiare in termini di tempo perché ovviamente lo spostamento richiede del tempo in termini di inquinamento perché se mi sposto sto utilizzando o posso utilizzare un mezzo elettrico ma anche un mezzo che ovviamente genera co2 quindi c'è un notevole risparmio da questo punto di vista e anche dal punto di vista dell'azienda perché ovviamente la persona deve spostarsi quindi in quel momento non sarà più non è più presente questo da un punto di vista ovviamente di parlando di videoconferenza ma la stessa è per se devo fare un monitoraggio a distanza di una di un building quindi devo fare ad esempio delle azioni di verifica all'interno di una di un di un building che possono essere di qualità di temperatura e quant'altro posso utilizzare tecnologie pensori piuttosto che visori piuttosto che intelligenza artificiale monitorare ciò che diversamente avrò dovuto fare fisicamente con qualcuno che doveva regarsi verso quel posto e fare quel tipo di attività quindi sicuramente sono assolutamente tecnologie green tecnologie che aiutano l'ambiente ma aiutano anche a vivere in modo più vivere meglio no perché chiaramente se tu riduci tutti questi tempi hai più tempo da dedicare ad altro più tempo per ovviamente ottimizzare il proprio benessere anche familiare piuttosto che personale ci sono un sacco di aspetti positivi questo è innegabile li abbiamo analizzati però ci sono anche dei rischi va sottolineato legati all'intelligenza artificiale allo sviluppo delle nuove tecnologie se ne è fatto un gran parlare proprio riguardo al caso gpt bot e questa chat insomma che sta rivoluzionando un po ecco il mondo del digitale della tecnologia soprattutto si appresta a rivoluzionare anche le nostre vite le nostre esistenze e a proposito dei rischi legati all'intelligenza artificiale uno dei punti che spesso viene messo in evidenza riguarda la sostituzione progressiva delle facoltà umane soprattutto ecco la creatività secondo lei è dalla sua posizione privilegiata di di osservatore di esperto del settore la creatività umana è effettivamente in pericolo guardi un tema che abbiamo toccato anche con con mano con persone ovviamente addette ai lavori cioè l'esempio della cosiddetta intelligenza artificiale generativa no che può essere sia da un punto di vista dei testi la spiego magari per chi per chi non è addetto ai lavori cioè ci sono ovviamente attraverso l'intelligenza artificiale c'è la possibilità di costruire dal nulla delle immagini o semplicemente digitando del testo e ovviamente ho una foto di un'immagine creata appunto da un'intelligenza oppure ho un testo che voglio andare ad arricchire con altro contenuto grazie al a queste queste intelligenze che sono in momento sul mercato è possibile fare ciò quello che riteniamo ritengo che sono sicuramente tecnologie abilitanti e devono rimanere tali sono delle tecnologie che possono sicuramente essere d'aiuto quindi non potranno mai sostituirsi ovviamente a quella che è la capacità umana e soprattutto oserei dire alla creatività umana quindi quello rimarrà sicuramente un fattore assolutamente presente chiaro è che molti potranno utilizzarle anche non avendo quel tipo di creatività e quindi un avvicinare no magari persone e a qualcosa che diversamente non avrebbero mai potuto potuto fare mai potuto vedere mai potuto interagire con questo tipo di tecnologie quindi se volessi domani creare una gioconda con un'immagine di un'altra persona oggi posso farlo addirittura posso avere anche una gioconda che parla poi qui entriamo in un tema no è etico non è etico è corretto non è corretto dar vita a un qualcosa che ha una sua a una sua integrità siamo tutti d'accordo però oggi la tecnologia consente di fare ciò ci sono state anche altre esperienze che hanno dato vita delle persone ormai non più presenti anche qui concerti piuttosto che dar vita a personaggi famosi dandogli parole e morfing anche del viso con tutte assolutamente esperienze che magari qualcuno che un po più preferisce non avere questo tipo di interazione o comunque questo tipo di passaggio la può vedere comune come un rischio ma secondo me è soltanto è sicuramente un modo per rendere ancora più accessibile no tutto questo tipo di conoscenza che c'è oggi abbiamo la fortuna di avere conoscenza infinita quasi infinita e avere la disposizione e poterla integrare con tecnologie con soluzioni con tutta la conoscenza che abbiamo è sicuramente un qualcosa che nel futuro potrà soltanto dare valore quindi dar valore a qualcosa che oggi magari ha limitato con un'intelligenza a disposizione possa aumentare con una conoscenza ancora più evidente profonda quel tipo di contenuto quindi posso dare ancora più valore a ciò che ho a disposizione chiaro insomma una moltiplicazione di potenzialità di possibilità ma non una sostituzione stiamo tranquilli non finirà ecco con epiloghi fantascientifici se vengono citati molto spesso film da matrix a bellissimo film con joaquin phoenix dove appunto il protagonista si innamora di una di un'intelligenza artificiale siamo ancora un po lontani ci conferma da quel tipo di scenario siamo lontani sicuramente rimane come sempre l'integrità umana che ci sono persone che vivono costantemente al computer di costantemente collegate costantemente fuori dalla realtà qui va andiamo al di là della tecnologia andiamo anche ad aspetti umani che umani culturali e anche di conoscenza che ogni persona e davvero una per innamorarsi di una persona virtuale sinceramente penso sia un qualcosa di impossibile di un robot mi viene ancora più cioè vecchio film vecchissimo film di alberto sordi che aveva no la persona all'interno di che faceva ovviamente faceva le pulizie dentro casa però insomma parliamo di un qualcosa che possa ecco essere al servizio delle persone e non sostitutiva quindi è vedere la tecnologia noi insomma a meno per quella che è la mia esperienza l'abbiamo sempre vista con un servizio quindi un qualcosa che aiuta un qualcosa che ti semplifica un qualcosa che ti agevola nella nella vita quotidiana o nel dal punto di vista del lavoro non come un qualcosa che sostituisce anche perché insomma se parliamo di sostituzione di una persona dovrebbe avere all'interno anche tante caratteristiche peculiarità di una persona un bagaglio culturale esperienziale e anche i sentimenti infatti è questa se un giorno si potrà replicare anche tutto il bagaglio di emozioni e questo è particolarmente interessante probabilmente noi non ci saremo più però chissà la tecnologia fa passi veramente da da gigante dottor francese io la ringrazio moltissimo per il suo contributo per questo bel focus che abbiamo dedicato alle tecnologie 4.0 io la invito ancora qui alle fonti per continuare a parlare perché appunto la tecnologia avanza e ci sono nuove scoperte nuove novità veramente da una settimana all'altra per cui sicuramente ci sarà modo e tempo per continuare ad approfondire l'argomento grazie ancora grazie a lei sarà sicuramente mio piacere di partecipare con temi ancora più rivoluzionari vediamo vediamo cosa succederà nella settimana grazie allora ringraziamo ancora antonio francese co-founder di media engineering termina questo nostro speciale instant focus adesso breve pausa pubblicitaria e poi naturalmente continuiamo con la nostra diretta mattutina